Renzo Artioli, di anni 17 Ritenevamo importante rivolgere ai dieci martiri di Porotto, questi dieci ragazzi che sono morti per la nostra libertà Sette di loro, come raccontavamo ieri, pensate sono stati uccisi il giorno prima della liberazione di Ferrara Quindi oggi è la conclusione di un primo percorso che abbiamo fatto in queste due settimane Perché oggi è la quindicesima sera che siamo in piazza e penso che ci abbia insegnato una sola cosa Che ci debba essere la sedicesima, la diciassettesima e la diciottesima Questo è il cipo che raccoglie tutte queste dieci vite Grazie